Pasquale brucia a giocarsi una seconda partita perché a 30 minuti ci interrompono la partita con la neve e poi giochiamo la seconda partita sotto la neve. Beh, abbiamo perso. Abbiamo perso, poteva anche vincere il Mola quella partita perché come tutti hanno visto quel campo era un campo poco adatto a fare una partita, una partita di Champions League. In quel caso poteva vincere la Juventus come invece poteva anche perdere o al contrario. Alla fine è meglio come è andata a finire così diamo spazio a chi non vince mai niente di andare avanti, tipo il Milan. Mi dispiace poi che magari l'anno prossimo questi milanisti e tiristi vedranno nuovamente i cartoni animati. Noi forse la faremo di nuovo la Champions League. Un'altra prima cosa. Arrivano i mondiali, abbiamo mezza nazionale che è Juventina, quindi con me, l'altro. Che ne pensi che la faremo con un girone duro? Guarda, la nazionale ha sempre una storia a parte perché se in campo internazionale con le squadre di club non riusciamo assolutamente ad emergere perché il nostro calcio, dobbiamo essere obiettivi, è inferiore al calcio che riesce ad esprimere l'Inghilterra, la Germania, la stessa Spagna. Quindi se a livello di club non riusciamo ad avere grossi risultati, stranamente a livello di nazionale noi possiamo nuovamente vincere il campionato. Possiamo di nuovo vincere il campionato mondiale. Ci siamo dimenticati, abbiamo un Ander 18 che è primi in classifica anche, quindi quest'anno è proprio alla grande. Ander 18 quando gioca l'Ander 18? Sì, gioca il sabato. Ingresso gratuito. Volevo anche aggiungere che personalmente io ho il Mola al primo posto, l'Ander 18 al primo posto e la Juve al primo posto. Abbiamo anche un allenatore dell'Ander 18, Renna, un allenatore nuovo perché è il primo anno che lui allena l'Ander 18 proprio con me, che si chiama Antonio Renna, sta facendo bene ed è primo in classifica. Parliamo di Ander 18, parliamo di calcio, parliamo di Juventus, parliamo di nazionale. Di nazionale? Nazionale. Girone di ferro. Sì, fino a quando non vogliono tutti i giocatori della Juventus, la nazionale non riuscirà mai a più. Che interista è milanista. No, no. Vorrei aggiungere che con l'Inter e con il Milan difficilmente si può tirare fornato. Siamo nazionali, siamo tutti nazionali. No, volevo rispondere in maniera agogliatica al Presidente perché con l'Inter e con il Milan non riusciremo mai a fare la nazionale, visto che non c'è un italiano. Quindi al massimo dobbiamo andare a prendere da Livorno e dal Sassuolo. Da là dobbiamo prendere il giocatore della nazionale. Ora, naturalmente parliamo di nazionale perché io non sono tipo di una scuola, nessuna scuola di club, per condizion. Però la nazionale è quella che stimo e ammiro di più. Io ci spacco pure le televisioni, come tra vita, siamo italiani. Il nazionale è veramente un girono di ferro perché ci siamo complicati le acque per non aver segnato un gol con una squadretta più. Abbiamo un Uruguay, abbiamo un Inghilterra. Meglio così, io non ci credo a quei gironi di ferro. I gironi fanno... Noi nell'82 dovevamo essere asfaltati dal Brasile e dall'Argentina. Invece quel girone lo vincemmo alla grande, alla grandissima. Quindi non ci credo in quello che fosse il girono di ferro, il girono di plastica. Poi, in realtà, ti fermo solo questa cosa qui. Abbiamo trovato poi nell'86 delle squadrette, anche nel 2006, delle squadrette veramente semplici che potevamo vincere alla carta. Ti ricorda ancora di me? Certo. L'ultimo, quattro anni fa. Niente, noi dobbiamo solo fare un in bocca al lupo a Mister Prandelli e a tutti i giocatori che stanno in Nazionale e a tutti i giocatori che sono in Nazionale, che sono tutti i giuventini, tra l'altro. A noi ci costa. No, per te Luca, no. No, ci costa perché noi poi paghiamo gli infortuni, paghiamo le stanchezze perché poi rientrano dalle Nazionali. Non è bello quello perché alla fine, cioè noi diamo effettivamente troppo alla Nazionale, dovrebbero anche gli altri darlo, ma non comprano giocatori italiani e che volete. Purtroppo, potremmo ritornare un po' come una volta. Dovremo, dovremo, sicuramente. Il Mola c'è tutti i giocatori italiani. Un po' di meno giocatori stranieri e più giocatori italiani. Così dalle scuole calci, giovanili eccetera eccetera, qualche dubbio sanno che tocca a tutti i nostri contributi. Se no noi staremo sempre inguaiati e come dice lui andremo sempre a la Juventus a chiedere ai giocatori e così perdiamo sempre. Io sono sotto di te. Arrivederci, presidente.